Ueeh, non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIODER e ragazzi, come vedete sul mio account da pochissimo sono riuscito ad ottenere delle skin molto molto rare. In questo momento ho selezionato la Honor Guard, ma se andiamo a vedere ho preso anche la skin, dove cavolo è? Aspetta che lo prendo, la Iconic, ma abbiamo anche la skin OG riflesso furtivo. Molti hanno detto XIODER mi spieghi come hai fatto a prenderle? Certo ragazzi, vi consiglio un sito super super affidabile e sopra... Bella WeTron! Super super affidabile e non fraudolento, dove potete anche voi acquistare le vostre skin. Perché sono dei codici presi da cellulari ancora con skin non riscattate. Andiamo ragazzi nella nostra pagina di Google, molto tranquillamente fatemi sistemare un attimo l'overlay in modo che non abbiate difficoltà a vedere. Cliccate sulla barra degli indirizzi e andiamo su fortnitestore.io come io, ok? Una volta che clicchiamo su questo sito arriveremo in questa pagina che state vedendo. E come vedete la skin Iconic per dire la vendono a 49 dollari. Per selezionare la skin che volete ragazzi, basta semplicemente andare su skin service. All skin service in modo che vedete quale siano le promozioni che cambiano ovviamente disponibili in questo momento. Intanto ringrazio anche Nico per la donation. Diciamo che io voglia acquistare una Honor Guard. Voi premete su Honor Guard. Si apre proprio una pagina di acquisto. Cliccate add to cart. Non è necessario fare il login. Add to cart. Come vedete è stato aggiornato il carrello che è questo qua in alto. Quindi premete su qua. Possiamo fare due cose. Se premiamo view cart si vede il nostro carrello. E possiamo andare proceed to checkout. Diciamo che premiamo proceed to checkout. Da qui ragazzi ci vengono chieste tutte le credenziali per poterla acquistare. Nome, cognome, città, indirizzo. Questa qua è country vuol dire paese scusate. Questa è la vostra città. Benvenuto Alessandro. Selezionate la provincia. Il vostro codice postale. Il vostro numero di telefono. La vostra email. Qua lui dice. Chiede la mail e la password del vostro account. Ma non siete obbligati a darli. Se non state acquistando la skin Iconic. Perché? Se acquistate la skin Iconic. Loro hanno bisogno di name e password. Le ho date anche i miei ragazzi. Quindi tranquilli. Sono persone serissime. Altrimenti non è necessario che li forniate. Io ho scritto la prima volta nome e password fasulli. Perché volevo vedere. Ed effettivamente non c'è stato nessun problema. Una volta che avete compilato tutto questo form. Qua alla destra vedete i prodotti che avete ordinato. E qui il metodo di pagamento con cui potete appunto evadere il vostro ordine. Una volta che avete pagato io vi consiglio Paypal che è la cosa più comoda. Proceed to Paypal. Cliccate su questo tasto. Andate direttamente sul sito di Paypal. Pagate. Nel momento in cui avete pagato. Nel giro di mezzo minuto. Vi arriva sulla mail il codice. Quando avete il codice. Voi fate. www.epicgames.com Andate nel sito ufficiale di Epic Games. E dove c'è in alto a destra il vostro account. Premete su questa voce. Quella sotto account. Una volta che premete questa voce. Inserirete qui. Il codice. Che vi è stato dato via mail. Attenzione di controllare. Se avete più di un account. Di essere loggati con quello corretto. Altrimenti la skin verrà riscattata. Su un altro account. Beh ragazzi. Semplicissimo. Questi siti comunque hanno anche il supporto tecnico. Scriveteli in inglese. Perché non parlano in italiano. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Spero vi sia stato utile. Vale ovviamente per tutti. Xbox. Switch. PC. PS4. Mobile. Quindi vale per tutti. Ricapitolando. Le skin tranne la Iconic. Le acquistate senza problemi. La Iconic invece. Siete obbligati a dare nome e password. E disabilitate il 2FA. Alla prossima. Ciao. 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 Ciao.